In un'epoca in cui l'immagine e l'apparenza sono sempre di più il biglietto da visita principale affidarsi agli specialisti in fatto di medicina estetica, è ormai divenuto un must. Sono tante le storie di operazioni non riuscite che riempiono i giornali, ecco perché uno studio accurato non solo della materia ma anche del paziente è alla base della moderna medicina estetica. Per il quarto anno apri pista a Napoli della dermatologia estetica correttiva e l'Università Federico II grazie al corso diretto da Giuseppe Monfregola e Fabio Ayala. È ormai lontano il tempo in cui si associava alla dermatologia a un ruolo puramente cosmetico. Oggi medicina estetica e dermatologia rigenerativa vivono un connubio sempre più stretto e felice. Ormai i pazienti non richiedono più una semplice miglioria estetica ma anche un intervento per aumentare benessere e salute. A dirlo è proprio la coordinatrice del corso, la professoressa in malattie cutanee venere del Policlinico Gabriella Fabrocini. Ascoltiamola. Ringiovanimento che non deve essere inteso come l'espletamento di metodiche di fillerino e di acido ialuronico ma deve essere inteso come una medicina rigenerativa che studia il tipo di pelle del paziente e capisce quali sono gli interventi migliori. In questi otto mesi di corso noi abbiamo mostrato ai nostri discenti sia in termini di teoria che in termini pratici le tecniche più innovative in tema di filler, in tema di biorivitalizzazione, fili per il ringiovanimento questi fili di acido polilattico che vengono inseriti, tecniche di liporimodellamento ancora tecniche legate anche alla diagnosi precoce di alcuni disturbi estetici come possono essere perdita di capelli, defluvium e così via fino a spaziare anche i campi della chirurgia plastica. Insomma affidarsi a degli specialisti è sempre la scelta migliore per evitare spiacevoli sorprese ecco perché al primo posto deve esserci la formazione dei professionisti. A spiegare i dettagli del corso tenutosi al Policlinico è Caterina Mazzella specializzanda della clinica dermatologica e membro della segreteria scientifica del corso federiciano. Il corso quest'anno è stato suddiviso in una parte teorica e una parte pratica ha visto la partecipazione di diversi specialisti e hanno insegnato ai neospecialisti è comunque stata un'esperienza molto interattiva a tutte le tecniche sia pratiche che teoriche.